Tre grandi opere cinematografiche del passato, protagonisti a Venezia con l'emissione di Franco Bolli in occasione della mostra del cinema. Tre opere indimenticabili e intramontabili. I soliti gnoti del 1958, diretto da Mario Municelli, ebbe un cast eccezionale con Totò, Vittorio Gasman, Marcello Mastroianni, Renato Salvatori, Claudia Cardinale, Tiberio Murgia ed altri. Il giorno della civetta, tratto nel 1968 dal libro di Leonardo Sciascia, venne diretto da Damiano Damiani. Anche in questo caso un cast di tutto rilievo che includeva fra gli altri Franco Nero, Claudia Cardinale, Lee Jacob e Sergei Reggiani. C'era una volta il West, sempre del 1968, fu diretto da Sergio Leone, che vi fece recitare icone del cinema come Henry Fonda e Charles Bronson, oltre a Claudia Cardinale ed altri importanti attori. I francobolli sono ispirati a scene del film e richiamano la classica pellicola cinematografica. Buona parte. I francане. I francobio. Grazie a tutti